Buon viaggio, ben trovati, Mauro Ciutini in studio, c'è un veicolo segnalato in avaria sull'A1 tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione di Firenze, mentre in direzione Roma altro veicolo fermo tra Incisa Reggello e Valdarno. Si ricorda un controllo di velocità in direzione Roma sempre in A1 tra Arezzo e Monte San Savino. Passiamo alla strada di grande comunicazione, traffico rallentato per lavori tra Montopoli-Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze. Per le statali sulla Vistiberina l'Ai45 è chiusa una corsia per lavori tra Val Savignone e l'incrocio Pieve-Santo Stefano Nord in direzione Viterbo-Terni. Per quanto riguarda la tramvia a Firenze, fino al 10 agosto ricordo è chiusa via Valfonda per il rifacimento di carreggiata e marciapiedi, deviazione dei mezzi pubblici sull'itinerario piazza della stazione Via della Scala. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Buon viaggio!